Salve a tutti ragazzi bentornati qui su Live Stories, io sono Ed, quest'oggi voglio parlare di un altro plugin per quanto riguarda bs studio che sinceramente mi ha dato quel tocco in più alle live di cui sentivo la necessità. Ovviamente magari da chi guarda le live non se ne accorge di questa cosa ma diciamo che è una cosa che volevo fare da parecchio tempo ma che prima non riuscivo a fare. Prima di iniziare però vi invito come solito di attivare la campanella ed iscrivervi al canale per essere sempre notificati sui prossimi video, di seguirmi su twitch twitch.tv slash xa35x e su tutti i vari social dove trovate i link comunque in descrizione. Detto questo, iniziamo. Una delle prime cose che mi hanno detto di fare quando ho cominciato a fare live è ovviamente dopo avermi guardato tanti tutorial per imparare a settare bs studio eccetera di suddividere le fonti audio per quanto riguarda la live quindi avere una fonte per disco, una fonte audio per il gioco, una fonte audio per spotify per esempio, una fonte audio che ne so per il browser se dobbiamo fare mai una reaction o qualche video su youtube eccetera. L'unico problema e questo è il motivo principale per cui non l'ho fatto fino adesso è che per fare appunto questa suddivisione delle fonti audio bisogna installare un programma esterno che si chiamava o meglio che si chiama esiste ancora voice meter banana. Però io mi sono guardato sinceramente dei tutorial per quanto riguarda questo software e li ho trovati, tutorial ben fatti ovviamente, ma ho trovato molto confusionale il software e sinceramente poco intuitivo. Tra l'altro ho saputo anche leggendo forum e sentendomi con altre persone che fanno streaming che è piuttosto buggato e quindi ho lasciato stare, sono andato avanti con il dispositivo di uscita audio e solamente che lì passava sostanzialmente tutto discord, browser, gioco tutto quanto e non è che fosse il massimo. Fortunatamente di recente è stato rilasciato un plugin che ci permette di appunto suddividere le tracce audio senza avere bisogno di voice meter banana. Si installa su bs e si va tranquilli, ci si può dividere tranquillamente le fonti audio come vogliamo. Il plugin è molto semplice da installare come al solito quindi non sto nemmeno qui a spiegarvi come installarlo ma vi spiegherò come configurarlo sul vostro bs quindi per questo ci spostiamo sul computer. Bene eccoci qui nuovamente sul forum di OBS studio vi ricordo che per tutti i plugin più interessanti andate sempre a cercarli sul forum di OBS che vi lascio il link comunque qua sotto in descrizione. Qui ci sono tantissimi plugin potete anche interagire con le persone che l'hanno creato perché c'è proprio un vero e proprio forum come si usava un bel po' di anni fa ed è proprio questo il caso perché appunto abbiamo il plugin win capture audio versione 2.1.0 beta anche se la beta funziona benissimo non vi preoccupate perché la sto testando da parecchio tempo ormai durante le live quindi non c'è alcun tipo di problema. Solito discorso il plugin va installato con OBS studio chiuso ovviamente basta cliccare su go to download ci manderà una pagina dove abbiamo la possibilità di scegliere tra l'eseguibile e il file zip. Fatto l'installazione del plugin apriamo il nostro OBS schermata ovviamente neutra dove non c'è nessun tipo di scena appunto per farvi vedere come funziona il plugin non troverete nessun tipo di pannello ma avrete un'opzione in più per quanto riguarda le fonti infatti noi se clicchiamo sul più dove sono le fonti appunto abbiamo application audio output capture questo appunto funziona sostanzialmente come il cattura gioco che abbiamo sempre utilizzato per far vedere i nostri gameplay durante le live soltanto che invece di catturare video catturerà soltanto sicuramente l'audio di quell'applicazione quindi scegliamo questa opzione chiamiamo ad esempio discord perché noi vogliamo l'audio di discord diamo ok vi consiglio di fare questa procedura con disco già aperto e non aprirlo nel momento in cui è arrivati in questa esatta finestra perché altrimenti il plugin non ve lo vedrà subito dovete chiudere e rifare la procedura. io in questo caso ho già disco aperto nel secondo monitor qui lo troviamo in elenco cerchiamo discord.exe ok e qui ci troviamo il nostro audio di discord possiamo ovviamente come tutte le fonti audio di OBS regolarlo come vogliamo possiamo fare la stessa cosa con che ne so il browser noi abbiamo il browser aperto in questo caso firefox chiamiamo browser anzi firefox catturiamo qui cerchiamo firefox ci dà anche il nome della finestra e anche qui abbiamo la fonte separata queste ovviamente sono tutte quante fonti separate cioè se noi facciamo partire ad esempio firefox un video su youtube e facciamo così quindi mutiamo l'audio di firefox sentiremo comunque l'audio di discord perché appunto sono fonti separate funziona semplicemente così il plugin niente di più niente di meno l'ultima cosa che vi consiglio di fare è questa come avete visto qui c'è scena 2 che abbiamo le fonti dove fare fox e discord questa vi consiglio di chiamarla ad esempio rinomina la chiamiamo audio per esempio perché volendo si possono importare all'interno delle fonti quindi all'interno di questa finestra delle scene bene in questo caso la scena si chiama audio noi se facciamo ad esempio aggiungiamo una scena 2 scena 1 anche perché il 2 non c'è perfetto come vediamo qui su scena 1 spostiamo in alto se me la fa spostare perfetto non abbiamo niente ma qua ad esempio se questa è una scena dove c'è il nostro gameplay o altro possiamo tranquillamente all'interno delle fonti aggiungere una scena basta fare aggiungi scena aggiungi una scena già esistente selezioniamo audio e qui automaticamente abbiamo già il nostro mixer con tutte le fonti che audio separate che vogliamo ovviamente se vogliamo aggiungerne alcuna non andiamo direttamente qua ma andiamo da qui direttamente e aggiungiamo altro io vi consiglio tra l'altro di fare una scena diciamo in più per quanto riguarda l'audio io l'ho fatto ad esempio nelle mie live audio per esempio games così so che in questa scena all'interno di questa scena le fonti sono solo esclusivamente quelle dell'audio di gioco propriamente me ne sono preparate alcune perché ovviamente ho vari giochi che porto in live così ogni volta so tranquillamente che le scene l'audio possa regolare direttamente da qua senza diventare matto avere tutte quante una fila di fonti audio qui tutto qua questo è quello che vi consiglio io poi ovviamente potete lasciare tranquillamente tutto dentro la stessa scena magari vi basta semplicemente creare una fonte chiamata games per esempio e qui ogni volta gli hai cambiato l'eseguibile certo non è una cosa comodissima però potete fare anche questo se non volete farvi tante fonti audio che magari occupano memoria vedete un po' voi questi sono dei consigli che vi do io ecco questo è semplicemente come funziona questo plugin che secondo me è molto comodo e molto utile e soprattutto meno complicato da configurare rispetto a Weissmeter Banana bene come avete visto il plugin è molto semplice da utilizzare e secondo me dà una nuova linfa vitale a chi vuole comunque fare live e utilizzare il multitracha senza installare quel programma odioso che era Weissmeter Banana questo è un plugin secondo me che rivoluziona completamente il modo di fare streaming perché con dei semplici click e con un metodo molto intelligente che abbiamo visto sostanzialmente fare cattura gioco però cattura soltanto l'audio e non il video ci permette appunto di avere la multitracha in modo semplice, pulito e veloce detto questo fatemi sapere nei commenti se avete bisogno di qualsiasi tipo di aiuto sono ben felice di rispondervi e noi ci becchiamo al prossimo video ciao ragazzi ciao 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 ciao